Buongiorno Presidente, un saluto a te e un saluto al Commissario. Quattro i punti fondamentali per la ripartenza dopo la pandemia del Covid-19. Il primo, interventi che limitino il calo demografico. Senza cittadini non c'è Europa. Secondo, favorire una convergenza fiscale tra gli Stati che eviti il dumping fiscale e la concorrenza che metta uno Stato contro un altro. Terzo, investire su filiere produttive complete per i problemi sanitari. L'emergenza ci ha fatto capire che su alcuni dispositivi di sicurezza e di protezione eravamo troppo succubi da paesi dell'est a cominciare dalla Cina. Sulla sanità bisogna intervenire fortemente sul completamento delle filiere produttive sulla supply chain. Ultimo punto, immaginare un investimento che rispetto a favorire le multinazionali, che sono quasi grandi quanto paesi europei e sfuggono molte volte la tassazione, favorire una ripresa produttiva delle piccole e medie imprese che sono il vero asse portante di quelle comunità regionali e di quelle città che noi rappresentiamo. Il locale più flessibile riesce a rispondere per interessi europei in maniera efficace ed efficiente rispetto al globale. Faccio un complimento al commissario per il suo impegno sul multilinguismo perché ritengo che questa sia la base della futura Europa, delle comunità, delle regioni e delle città. Buon lavoro a tutti. Grazie molto.